C'è chi lo fa per gli altri, per prendersi cura delle persone, chi per sentirsi utile, chi per amore della professione. Per qualcuno è una missione, per qualcuno è un impegno, ma per nessuno è solo un lavoro. Infermieri, sempre al centro della vita dei pazienti. Infermieri ogni giorno. Diventa infermiere di Humanitas.